Eccoci qua ragazzi con una terza ed ultima parte dell'apertura del box solo in luna gioco di squadra in italiano Allora, eravamo partiti malissimo con la prima parte dell'apertura del box e abbiamo trovato una GX in 12 pacchetti ragazzi Roba da non credere, però la seconda parte è andata decisamente meglio Però basta spoiler ragazzi, se no dopo se state vedendo prima questa parte e volete andare a vedere le altre due parti Non ci andrete mai perché già vi ho detto tutto, quindi io non vi dico che carto ho trovato Così almeno lascio un po' di suspense e andrete a vedere il video Sarà, comunque, questo primo pack ragazzi, togliamo la carta codice, credo già abbia qualcosa di buono E andiamo con il trick a 4, allora ragazzi, me lo scordavo di dire, lasciate un bel like Lasciate un bel like ragazzi, questo porterà fortuna, il vostro like ci farà trovare una buona carta, me lo sento E abbiamo, energia, allenatore, persia, pappeccio, gagne, exiglio, largità, miau, nitroampenna, virtual reverse Attenzione, boom! Latias e Latios e GX full art 169 di 181 Spettacolare l'artwork di questi due, Latias e Latios Tanta roba ragazzi Abbagliante distruttivo 240 punti danno ragazzi Questa carta è formidabile, ragazzi, formidabile proprio Anche se, come saprete, io non gioco, quindi magari questa mossa farà anche schifo Però, vi posso assicurare che l'artwork ragazzi è spettacolare Quindi iniziamo subito la terza apertura Sì, la terza apertura L'apertura della terza parte del box con una full art spettacolare a primo pack Quindi a posto così ragazzi Anche questa terza parte è andata bene E adesso possiamo goderci il box con tranquillità Perché abbiamo trovato quello che volevamo trovare Quindi, molto bene Adesso andiamo a vedere cosa c'è in questo secondo pack ragazzi Allora, dopo una full art sarà difficile trovare qualcosa di buono Quindi dubito che questo pack abbia qualcosa di buono per noi Però vedremo, vedremo Però visto che appena ho detto like Subito un Latias e Latios e Latios full art Quindi, questo che significa che lasciando sempre un like ad ogni video Troveremo una carta buona ad ogni video Hai capito come? E abbiamo Widdle, Helioptil, Execute, Zorva Reverse Attenzione, ultima carta Un Mandibaz raro che fino adesso ancora non ho mai trovato Quindi, beh, diciamo che posso essere contento Perché alla fine per la completezza ragazzi Per la completazione, per il completamento Per il completaggio dell'espansione serve tutto Però, della serie tutto fa brodo Però, diciamo ragazzi, fino a una certa Sarebbe meglio trovare una bella reverse Di quelle ignoranti Piuttosto che una rara normale Però, vabbè, accontentiamoci Andiamo qui con questo terzo pack E abbiamo Attenzione, attenzione e attenzione Widdle, Helioptil, Execute, Ferrosid, Miao Tauros Finita la voce Tauros reverse Attenzione Mister Mime Raro ragazzi Non l'avevo mai trovato Ci può stare, ci può stare Anche questo terzo pack è andato C'è qualcosa che non mi quadra a me Nesta luce, nesta cosa Si vede un po' buio Però, vabbè Andiamo con l'artwork di Gengar e Mimico Vediamo cosa troviamo in questo pack Numero 4 ragazzi Qua voglio trovare una bellissima Hyper Non lo sento Qua c'è l'hyper ragazzi Non so se avete visto il sondaggio su Instagram Che vi avevo fatto l'altro giorno Se non l'avete visto andatela a vedere A parte no, penso che ormai Che il tempo è pubblico questo video Già non ci sarà più Perché già sarà passato più di un giorno Vabbè comunque Avevo fatto un sondaggio su Instagram Se non mi seguite andiamo a seguire Leonardo Barra sotto G Barra sotto C Avevo chiesto Quante hyper troverò in questo box 2 oppure 0 Quindi diciamo che L'opzione 0 Già è decaduta ragazzi Perché 0 Non posso più trovarle Dato che già non ho trovata una Quindi Riusciremo a trovarne 2 Sarà una cosa molto molto difficile Anzi Credo impossibile Però ragazzi Ci voglio sperare fino all'ultimo pack Quindi vediamo se abbiamo indovinato Oppure no Rapidash Reverse Nel frattempo ragazzi Mentre mi perdevo in chiacchiere E non vedevo manco le altre carte Che ho trovato fino adesso Però abbiamo Attenzione Pidgeot raro ragazzi Pidgeot raro Fino adesso non l'avevo mai trovato Quindi Buono Andiamo con il pack Numero 5 Con l'artwork Di Eevee E Snorlax Ragazzi Un bel Eevee E Snorlax Full art Sarebbe figo Però ovviamente Non lo troveremo mai E andiamo con il Trick A4 Perché abbiamo già trovato Latias e Latios Quindi Credo sia poco probabile Che troviamo anche un'altra Full art Di questo tipo Ma questo si vede bene Lasciamola così E abbiamo Energia Avenatore Spiritomb Helioptil Larvitar Psyduck Vulpix Sponyart Gelatud di Alola Bello Absol reverse Che non me l'aspettavo E per finire Spoon Ferrotorn Raro ragazzi Un Absol reverse Molto bene Perché non avevo trovato Ne Absol E non avevo trovato Neanche in versione reverse Quindi è andata bene E andiamo con Con questo Sest Ultimo Sest Ultimo Sest Ultimo Come si dice Sest Ultimo Sest Ultimo Sest Ultimo Ma c'è il Settimultimo Come si dice Non lo so Ditemelo un po' Cioè tipo Se Quinto Quinto Ultimo Sest Ultimo Penultimo Terzo Ultimo Quarto Ultimo Quinto Ultimo Sest Ultimo Come si dice Ma vabbè Piccolo Lapsus Ragazzi A una certa Età succede Che uno abbia Questi Lapsus Così Però vabbè Sest Ultimo Sest Sest Ultimo O non Sest Ultimo Vabbè Energia Dragonair Torracart Allenatore Nidoran Maschio Cosmog Magikarp Zorwa Larvitar Attenzione Solito Allenatore Reverse Per finire Boom Starmi Raro Ragazzi Lartwork Mi fa Fa venire Voglio Andare Andare Al mare L'estate Ragazzi Godersi L'estate Però No Perché Dobbiamo Stare Qui Ad aprire Questo Box E poi Non è Neanche Estate Quindi Che cazzo Dico Non lo so Comunque Va bene Andiamo con Il pack Numero 3S Perché Sanno tutte Decentrate Ma che Ragazzi C'è un po' Piccola distrazione Al momento Perché Vorrei Trovare Una bella Fuoriserie Di quelle Ignoranti Però Fuoriserie E qua Ci stanno Le allenatore C'è tipo La gold Non la puoi trovare Quindi un po' Sta cosa Non mi piace Vorrei trovare Tipo Una di queste Però Gold Sarebbe bello Invece no E vabbè Accontentiamoci Di una full art Su Fa Voglio la full art Non lo sento Fa c'è Sta una bella Full art Carta codice Che togliamo In tutto questo La memoria È quasi finita Quindi Spero di riuscire A finire Questo video Prima che si Spenga il telefono Cioè Prima che finisca La memoria E andiamo Con energia Quindi puoi stare dicendo Allora parla più veloce E sbrigati Ragazzi Tempo al tempo Abbiamo Charmilion Allenatore Magikarp Zorwa Lavita Psyduck Ballabì Paras Reverse E attenzione Articuno Olografico Spettacolare ragazzi L'artwork di questo Articuno Tanta roba 32 di 181 Rara Quindi adesso abbiamo trovato Zaptos Reverse Moltres Olografico E Articuno Olografico Vorrei trovare un bel Zaptos Olografico Così completato il trio In versione Olo E poi A posto ragazzi A posto Così E andiamo con Aspetta Però non so se Zaptos C'è sta Raro E Reverse Oppure Olo E Reverse Non so Cioè Reverse è sicuro Però non so se la versione Quella normale È rara normale O rara olografica Non lo so Però boh Vedremo Vedremo Cioè non mi ricordo Magari ho pure trovato Raro normale Ma non mi ricordo Però vabbè Sto pacchetto non so Voleva aprire da qua davanti Non so cosa abbia E abbiamo Attenzione Attenzione ragazzi Qui c'è qualcosa di bello Spero sia Un Fereligator Gold Ma pensa quando faranno Fereligator Ma ci voglio pensare Andiamo avanti Energia Rapidash Animatore Hitmonchan Zorwa Widow Joltik Blizzol Paras E attenzione Qui abbiamo qualcosa di Prisma Perché abbiamo Attenzione Tapu Koko Prisma Spettacolare 51 di 181 Nel frattempo sento che Aspetta Vediamo l'ultima carta Spoo Lugia Olografico Spettacolo Non so se non c'è forse Lugia Olografico Nesta espansione Guardate l'artwork Che spettacolo Molto bene Ragazzi Lo stesso pack È Tapu Koko Prisma Che andrebbe slivato E Lugia Olografico Che andrebbe slivato Però Sliviamo sto Tapu Koko Dai Su faccio veloce Se no mi si rovina Mi si rovina Mi si rovina Ecco Tapu Koko Slivato Prisma Lo mettiamo qua dietro Al posto del Pikachu Perché la carta Prisma Va sempre al posto del Pikachu Ricordatelo Quando ci avete un Pikachu Da Davanti ci mettete una carta Prisma E adesso Andiamo A vedere cosa troviamo All'interno di quest'altro pack Nel frattempo ragazzi In questi giorni Credo mi stia Venendo qualcosa Alla gola Tipo O le placche O non so cosa Quindi Pelo pelo Siamo riusciti a portare L'apertura di questo box E ora devo portare anche Le lights E trainer box Il set allenatore fuori classe Non so se da lì Riuscite a vedere Quello che sta là dietro Però Dovrìci a aprire pure quello Solamente che Sento che Sto facendo molta fatica a parlare Quindi non so se ce la farò mai Però vabbè Il tempo stringe Dobbiamo sbrigarci Quindi andiamo con Hitmonchan Allenatore Pochigena Nidron Lasciate un like Se non lo avete lasciato Pancha Polton Clefky Dratini Reverse E attenzione Bidrill raro ragazzi Ci sta Bidrill raro Non l'avevo mai trovato Quindi molto bene Numero 5 Quindi va nella prima pagina E la prima pagina è sempre bella Quando è completa Perché almeno inizi subito Capito La prima pagina è già completa Già fai bella figura Se no Se tutta la volta che marcano le carte Sì E andiamo con questo pack Numero Non lo so Allora All'interno di questo box Non abbiamo trovato Doppia full art No Non ho trovato la doppia full art Ho trovato solo una full art Una hyper E qualche gx E due prisma Quindi In teoria potrei trovare ancora Una fuori serie Un'altra full art O se mi dice proprio fortuna fortuna Ma credo sia poco probabile Non so neanche se Ci sia come possibilità Un'altra hyper Però non voglio di cavolate Quindi non lo diciamo Energia Allenatore Nidorina Kakuna Tentacle Ponita Grimer di Alola Cosmog Litten Puncham Reverse E attenzione Bidrill raro ragazzi Due bidrille in due pacchetti Ste cose Non le posso vedere Le odio Sto registrando Sì E andiamo con il pack Number Penultimo ragazzi Number penultimo Hashtag number penultimo In inglese Perché penultimo È una parola in inglese Attenzione ragazzi Attenzione Attenzione Carta logica Che togliamo Trick a 4 Che trichiamo E andiamo con Attenzione Attenzione Basta Quante volte ho detto Attenzione Un po' troppo Energia Grave l'erdialola Allenatore Pupita Ponita Mari Charmander Honich PG8 Exeggutor di Alola Reverse Attenzione Ultima carta Qua voglio trovare Oh Ci sarà ora Non credo Abbiamo Attenzione Galvantula raro Non l'avevo ancora mai trovato Quindi ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta come D'autunno le foglie E andiamo con A proposito di autunno Un Mimikyu Ragazzi Guardate quant'è inquietante Questo pokemon Ultimo pack Ragazzi Di questa Espansione Di questo box Poi dopo di questo box Dopo di questo Dopo di questo box Ci sarà l'apertura Delle light Trainer box Il set allenatore Fuori classe Però Tempo al tempo E andiamo con Attenzione Trick a 4 E vediamo Cosa c'è All'interno di questo Ultimo pack Non ho trovato Manco la fuori Mincioio Io pensavo Vabbè Energia Allenatore Spiniton Allenatore Magikarp Exeggutor Helioptic Miao Nidoran Maschio Voltorb Reverse Ultima carta Pangoro Raro Non ci siamo Non ci siamo Non è finita Benissimo Però Abbiamo trovato Alla fine La prisma La pull art E ci accontentiamo Così Perché chi sa Accontenta Ragazzi Gode Quindi noi Dobbiamo essere felici Così E accontentarci Di quello che abbiamo E quindi Per questo video è tutto Spero vi di essere piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti Se abitemi su Instagram Se ancora non mi seguite Leonardo Barasotto Un G Barasotto C Perché ci sono Molti altri video Molte foto Le cose Insomma le solite cose Avete visto anche negli altri due video Prima di questo E niente Ci vediamo con l'apertura Del light Nel box Mi raccomando La più carichi Con i like Che ne avete messi tanti Ma servono ancora più like Per l'apertura delle light Che quello lì Ragazzi abbiamo solo 8 pecke E dobbiamo trovare qualcosa di buono Almeno in 8 pecke E quindi Per oggi è tutto Like, subscribe, share E tutto quello che volete Tira su due dita E tutto quello che volete Che se mi da